Il perché di questa situazione? Ci sono varie ragioni, sicuramente giocare senza un americano che doveva essere il cardine della squadra non aiuta, oggi abbiamo provato il famoso piano B, non funziona neanche dopo 15 giorni, ha male, quindi credo che il prossimo passo sarà quello di farne a meno fino al 23 gennaio, dopodiché ne prenderemo un altro perché vedo difficile onestamente continuare così. Non le do le dimissioni, te lo ripeto, non le do, sto qui fino alla fine, ho due coglioni così. Evidentemente dobbiamo cercare di trovare le forze dentro noi stessi per giocare meglio di così e per fare più canestro di così perché io credo, probabilmente saremo pure scarsi, però non siamo scarsi al punto di fare 2 su 28 da 3 e di tirare il 28% dal campo. Contro qualsiasi difesa di questo campionato noi per quanto possiamo essere scarsi non possiamo tirare con questi percentuali, quindi vuol dire che c'è qualcosa a livello psicologico che ci frena.